E per tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi E oggi siamo qua per la prima volta in una intervista a me Poi dopo nei prossimi giorni andremo a fare pure delle interviste doppie E andremo pure a fare comunque delle cose più molto belle Ok, iniziamo subito ragazzi Qual è il tuo nome? Ok, allora il mio nome è Davide e in arte è Davids Da quanti anni fa YouTube? Faccio YouTube da tipo un anno e mezzo credo ragazzi Dovrei essere un anno e mezzo Perché hai deciso di fare YouTube? Allora ho deciso di fare YouTube perché io ho sempre visto YouTube E quindi ragazzi sono... A quel punto io volevo vedere un po' come era la vita da YouTuber Un po' come funzionava e quindi ho deciso di iniziare ad aprire un canale Come è nato il nome Davids? Allora il mio nome Davids viene perché non trovavo un nome All'inizio sapete che mi volevo chiamare di Overbomber 123 e una cosa del genere Poi da poi ho detto ma scusa Cioè ma non ha senso questa... Non ha senso questa cosa ragazzi E quindi non... Allora ho deciso comunque ho messo insieme due nomi E mi è venuto Davids E quindi alla fine poi ho fatto la maglietta Ho fatto lo shop E quindi... Vabbè adesso siamo a 127 iscritti Che comunque sono un sacco di iscritti Però comunque dobbiamo ancora crescere E con calma Tutte queste cose bisogna essere fatte con calma Quanti anni hai? Allora io ho 14 anni Che tipo di video fai? Allora di solito per chi non mi conoscesse Io faccio video di game Però qualche volta faccio comunque tipo dei... Faccio delle live dove gioco con i videogame Faccio per esempio... Però pure posso... Tipo non so se vi ricordate Ho fatto due episodi Del futuro del canale Dove ancora là comunque ero abbastanza scarso ecco Cioè che poi evita Anche ora non è che sono così una cosa così grande Però comunque adesso sono 127 iscritti E questo Che cosa hai fatto per il canale quest'anno? Allora sì Per il canale mi sono messo proprio molto su I primi giorni facevo un sacco di video, 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 video Poi comunque con la scuola non... Comunque è un po' difficile fare i video Quindi devo un po' vedere tra la scuola e il... E il... Tra la scuola e YouTube Devo ancora un po' vedere come fare Come alterni YouTube e lo studio? Allora sì ecco Bella domanda Parlando sempre di... Tra vita di studio e YouTube Allora io di solito faccio Faccio o prima di studiare un video O dopo aver studiato Di solito lo faccio sempre dopo aver studiato Così almeno sono tranquillo Alla fine non hai risposto molto bene alla domanda di prima Che cosa hai comprato per il canale? Allora Comunque Alla fine La domanda di prima Io per YouTube ho comprato Non so se avete accorti Ma ho comprato un microfono Questo qua Che adesso non so se lo vedete E un microfono Cioè un microfonino che si può attaccare Alla giacca o questo Dove comunque Se vuoi andare fuori a fare un video La qualità è migliore Quindi credo che Adesso non so se la qualità sia migliore Però se tipo mi avvicino La 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 voce sia un po' più forte Quindi è una cosa molto Molto bella L'hai fatto uno shop per il tuo canale? Ok allora ragazzi Io sì ho fatto Ho fatto delle magliette Cioè anzi ho fatto una maglietta Però solo che ho fatto Ho fatto poi uno shop E quindi là ho fatto delle magliette Delle borse Anche tipo delle penne Ma stai registrando nella tua camera? No Allora la Allora adesso io sto registrando Non nella mia camera Ma sto registrando nella camera di mia sorella Infatti come potete vedere qua Dalla coperta Non Non è che Cioè che Credo che sia vedibile E poi non so se vi ricordate Ma io ho fatto tipo Nei primi giorni del canale Ho fatto dei video con lei Quindi Andatevi a vedere se non l'avete visti Comunque ragazzi Io credo che Il video può finire qua Spero che vi sia piaciuto Se avete altre domande Scrivetelo in DM Su Instagram Poi vi lascio qua sotto Il link E io direi di Finire qua il video E Grazie dell'attenzione Ciao